Sono 41, meno della metà, i comuni della provincia di Messina che hanno ricevuto il finanziamento per il piano di miglioramento dei servizi della Polizia Municipale per l'anno 2013. Tra questi Barcellona Pozzo di Gotto, che ha ricevuto 63 mila euro, Milazzo, che ha ottenuto 49 mila euro, Sant'Agata Militello 33 mila, Capodorlando 29 mila e San Fratello 11 mila. Esclusi dai finanziamenti Messina, Patti, Gioio Samarea, Brolo, Santo Stefano di Camastra, Lipari e altri piccoli centri. Sul mancato inserimento di oltre 60 comuni interviene la CISL Funzione Pubblica con il segretario provinciale Caloggere Emanuele e il coordinatore della Polizia Municipale della CISL Piero Allegra. È necessario un intervento tempestivo presso l'assessorato delle autonomie locali, ma prima di tutto bisogna capire se da parte degli uffici comunali vi siano state delle inadi e impienze, sottolineano i due sindacalisti. La motivazione, infatti, non è chiara, ma appare ingiustificabile l'esclusione a fronte di servizi resi oltre due anni fa. A questa beffa se ne aggiunge una nuova. Il costo di questo servizio dal 2014 viene posto interamente a valere sui bilanci dei singoli comuni. E in questo caso il comune di Messina ha previsto solo 300 mila euro rispetto ai 550 mila euro previsti dalla regione siciliana nel 2013. Una situazione di sofferenza che non riguarda solo il comune di Messina, dicevamo, ma anche tanti altri piccoli comuni della provincia. Il rischio è di vedere compromessi i servizi di ordine pubblico, sicurezza e controllo del territorio, che oggi più di prima sono strategici e fondamentali nel contesto della sicurezza nazionale. La Cisle Funzione Pubblica quindi chiede un'immediata riconsiderazione da parte dell'assessorato regionale affinché venga reinserito nel documento di finanziamento dell'indennità 2013 i comuni mancanti e al comune di Messina di prevedere per l'esercizio 2015 somme più congrue di quelle finanziate nel 2014. C'è bisogno, concludono Emanuele Allegra, di un intervento immediato da parte delle amministrazioni comunali escluse dal decreto regionale per recuperare il danno. Grazie a tutti.